In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova edizione di MTG in apertura. C'è la pagina di cronaca, rimane in prognosi riservata la vittoriese di 47 anni, picchiata dal compagno professore di musica la sera della vigilia di Natale a Vittoria. La donna ha subito un vistoso trauma cranico, l'uomo raggiunto da un divieto di avvicinamento alla vittima invece è stato sorpreso mentre tentava di entrare in ospedale. Viviana Sammito. La picchia fino a mandarla in ospedale, dove rimane in prognosi riservata nel reparto di neurologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Una vittoriese di 47 anni ha subito percosse dal compagno insegnante di musica sulla cinquantina, molto noto a Vittoria, un insospettabile che canta pure in chiesa. Per ragioni di convivenza, non meglio specificate, l'uomo ha avuto un alterco la sera della vigilia di Natale con la compagna. Lei, secondo quanto ha riferito il cinquantenne, lo ha graffiato e lui l'ha spinta, facendole battere la testa. Questa è la versione dell'uomo al vaglio degli inquirenti. Il cinquantenne che è indagato a piede libero per lesioni personali, stando a quanto ci è dato sapere, è stato sorpreso mentre tentava di entrare dalla porta secondaria al pronto soccorso per raggiungere la compagna. E' stato lui la sera dell'aggressione ad avere chiamato i soccorsi. La donna rimane sotto la stretta osservazione dei neurologi. E' in fase acuta e passeranno almeno sei mesi per stabilire gli eti del danno cerebrale cagionato durante la lite con il professore di musica. Quest'ultimo, che non ha precedenti penali e non era neanche conosciuto alle forze dell'ordine, ha alle spalle un matrimonio finito sempre per le violenze consumate tra le mura domestiche. I colleghi lo hanno descritto come una persona rabbiosa e irruente. Sull'accaduto continuano le indagini da parte della Polizia di Vittoria. Il 4 marzo sarà celebrato con la formula del rito abbreviato condizionato il processo a carico di Davide Corallo, accusato dell'omicidio dello chef modicano Peppe Lucifora. Il carabiniere di 39 anni rischia sino a 30 anni di carcere. Davide Corallo, l'uomo accusato di aver ucciso Peppe Lucifora, ha scelto di essere giudicato mediante il rito abbreviato condizionato. Verrà aggiunta un'integrazione probatoria. Corallo si presenterà dinnanzi al giudice Andrea Reale il 4 marzo di quest'anno. Corallo si è da sempre professato sereno e fiducioso delle indagini. A tal proposito, contattati da noi i legali, Tomasello e lo giudice fanno sapere che la richiesta del rito abbreviato condizionato non è un'ammissione di colpa, anzi tutt'altro. Il nostro assistito ha semplicemente scelto di accelerare i tempi della giustizia, ha concluso l'avvocato Tomasello. Il rito abbreviato infatti consente anche un considerevole sconto della pena. Il giudice emetterà sentenza basandosi solo ed esclusivamente sul fascicolo prodotto dal pubblico ministero, Francesco Riccio. Davide Corallo si trova ancora rinchiuso in carcere, a Caltagirone. Qualcuno potrebbe pensare ad un regalo di compleanno per la vittima, visto che il rito sarà celebrato il giorno del compleanno del cuoco modicano. L'omicidio del 57enne si consumò all'interno dell'appartamento in cui risiedeva a largo 11 febbraio a Modica, nel quartiere Dente, il 10 novembre del 2019. Il cadavere dello chef fu trovato non completamente vestito e con evidenti segni di violenza sul volto. L'autopsia rileverà poi che l'uomo era stato strozzato con una mano sola dopo essere stato tramortito. La chiave della stanza da letto in cui era stato chiuso il corpo e dove vi era stata prima intimità e dopo violenza non è mai stata trovata. Il cadavere di Peppe è stato chiuso in quella stanza, poi forzata all'arrivo delle forze dell'ordine messe in allarme da una donna con cui Lucifora avrebbe dovuto lavorare in una serata quel giorno. Dopo dieci mesi di indagine è stata una traccia biologica ad incastrare Corallo. Tracce di sangue della vittima unite al liquido seminale trovate nello scarico del lavandino dell'unico bagno di casa del 57enne. Corallo rischia adesso una pena sino a 30 anni. Continuano le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Paternò di Antonino Mannino, 63enne paternese di cui non si hanno notizie dalla sera della vigilia di Natale. Sono momenti di angoscia per i familiari dell'uomo, operaio forestale, il telefonino in suo possesso risulta essere spento proprio dal giorno della vigilia di Natale. Antonino Mannino è alto circa un metro e 55 centimetri, pesa circa 75 chilogrammi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni, maglione e giubbotto di colore nero. Chiunque abbia o sia in possesso di informazioni utili alle indagini, contatti immediatamente le forze dell'ordine, hanno fatto sapere i carabinieri. Parliamo adesso dell'attuale situazione del Covid-19 in provincia di Ragusa. Aumentano i casi positivi nella provincia eblea. Torna a crescere il numero delle persone positive al Covid-19 in provincia di Ragusa e raggiunge quota 700 casi. Sono 700 le persone positive al Covid-19, di queste 645 sono in isolamento domiciliare, di cui 8 fuori provincia, 29 ad Acate, 11 a Chiaramonte-Gulfi, 49 a Comiso. Giarratana continua ad essere comune Covid-19, a Dispi che invece sono in 16, a Modica 156, a Monterosso-Almo 1, a Pozzallo 34, a Ragusa 125, a Santa Croce-Camerina 30, a Scicli 18, a Vittoria 171. Le persone guarite sono 5.869, le persone decedute 171, nelle ultime 24 ore non si sono registrati fortunatamente nuovi decessi. Le persone ricoverate sono 36, 18 in malattie infettive, in terapia intensiva sono in 6, in area grigia a Ragusa 3, in area Covid a Vittoria 9, 19 invece le persone in RSA. I tamponi molecolari processati dall'inizio della pandemia sono 79.590, i test sierologici 20.569, i test rapidi 97.984, per un totale di 198.193 test eseguiti in tutto il territorio della provincia di Ragusa dall'inizio della pandemia. La terza ondata in Europa pare sia iniziata e l'Italia si prepara. Come dichiara il professore Jacobello, direttore di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania, si potrebbe registrare un aggravamento sui pazienti. Solitamente un virus quando cambia è perché perde fitness, cioè la sua capacità di essere contagioso, ma sul coronavirus non sappiamo se poter applicare questa regola. Lo afferma il direttore dell'unità operativa malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania, Carmelo Jacobello, evidenziando come bisogna prepararsi alla terza ondata, perché i numeri che sono presenti negli altri stati ci fanno temere come questa stia già cominciando, cominciando anche con una variazione del virus che sembra essere in alcuni tratti più aggressiva. Diciamo che in questo momento abbiamo un sottofondo forte di Covid nelle varie nazioni europee. Su questo sottofondo è possibile che possa poi svilupparsi una terza ondata che rappresenterebbe certamente un problema di gravità anche abbastanza seria, perché significherebbe una pressione notevole sulle strutture ospedaliere. Il fatto che il virus stia mutando è perché nel frattempo trova delle difese immunitarie più preparate? Non è possibile immaginare una cosa di questo genere. I virus mutano spontaneamente molto spesso. I virus ad RNA sono tra l'altro quelli che hanno una capacità innata in qualche modo a fare delle delezioni, delle mutazioni. In genere una mutazione per un virus, per i microrganismi in generale, è una perdita di fitness, come si dice, cioè perdono in qualche modo la loro capacità di essere contagiosi e aggressivi. Però su questo virus tutte le certezze che avevamo della virologia generale stanno a poco a poco cadendo e quindi bisognerà valutare con attenzione quello che sta succedendo, perché da un punto di vista clinico sembra che la malattia stia cambiando alcuni aspetti. Prima avevamo problemi soprattutto quasi esclusivamente polmonari, adesso si associano ai problemi polmonari anche problemi di tipo emocoagulativo, che certamente sono di difficile gestione. Sono risultata positiva al Covid, ma rifarei il vaccino e farò il richiamo, che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l'avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Lo afferma la dottoressa Antonella Franco, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dopo la notizia della sua positività al Covid da pochi giorni dalla vaccinazione. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anti-coronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni. Sostiene, vi assicuro che prima di fare il vaccino aveva eseguito più di un tampone, ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione. Conclude la Franco. 250 operatori sanitari sono stati vaccinati contro il Covid il 2 gennaio nei tre distretti sanitari in Modica Vittoria e Ragusa, mentre ieri in Sicilia sono stati somministrati 4.691 vaccini. Il direttore sanitario degli ospedali riuniti, Modica Scicli, Piero Bonomo, ha chiarito che la carta vincente sarà la combinazione tra vaccinazione e anticorpi monoclonali. In Sicilia sono stati somministrati 4.691 vaccini per oltre 11.000 vaccinati dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 a tutti gli operatori sanitari. 250 sono stati sottoposti al vaccino contro il SARS-CoV-2 il 2 gennaio nei tre distretti sanitari. All'ospedale maggiore di Modica 59 sono stati vaccinati, al Giovanni Polo II Ragusa 116 e al Guzzardi di Vittoria 75 e ripeteranno la seconda dose il 23 gennaio. Sono infatti due le dosi del vaccino a Pfizer da somministrare, la seconda a distanza di tre settimane dalla prima con un'efficacia secondo gli studi scientifici che si raggiungerà in un mese. L'ASP di Ragusa avvierà degli studi sulle reazioni dei vaccinati per comprendere tempi e modalità sullo sviluppo degli anticorpi e sull'immunità. Una ricerca da condividere con la comunità scientifica a tutti i livelli. Il monitoraggio è previsto dal terzo mese, dalla vaccinazione dal sesto mese e dopo un anno che coincide sempre secondo gli esperti con il periodo in cui si conclude l'effetto dell'immunità. Io credo che la combinazione fra vaccinazione e terapia sarà la carta vincente perché prima che completeremo la vaccinazione in Italia passeranno parecchi mesi per cui la protezione non si raggiungerà prima di quest'estate e quindi purtroppo la brutta notizia è che dovremo continuare col distanziamento sociale, con le mascherine e tutto quello che abbiamo imparato nell'anno precedente per proteggerci. Le terapie, sappiamo che ci sono delle sperimentazioni in atto specialmente sugli anticorpi monoclonali che dovrebbero rappresentare l'efficacia terapeutica futura anche perché avete letto, abbiamo sentito tutti, che ci sono anche delle varianti del Covid-19 e le varianti sono numerose. Così come il virus dell'influenza anche questo virus è mutevole. Se è mutevole abbiamo bisogno oltre che di vaccini anche di terapie efficace ma credo che siamo sulla strada giusta. Oggi proseguono le vaccinazioni in tutto il territorio ebreo, sempre nei tre distretti. Coronavirus al via bando per tecnici, informatici, amministrativi e assistenti sociali sarà attiva a partire dalle ore 15 del prossimo 7 gennaio la piattaforma telematica che consente di partecipare al bando per il reperimento di tecnici informatici e assistenti sociali da impiegare in tutte le aziende del sistema sanitario regionale nell'ambito dell'emergenza Covid in Sicilia. L'iniziativa varata dall'assessorato regionale alla salute ha l'obiettivo di stilare un elenco di figure professionali per assicurare e fa bisogno ad aziende e strutture commissariali impegnate nella pandemia. La durata dell'incarico è collegata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e comunque per tutta la durata della campagna di vaccinazione. Era uscito di casa nonostante fosse positivo, è successo a Catania dove poliziotti hanno denunciato e stato di libertà un uomo. Gli operatori insospettiti dalla presenza di un soggetto che stava effettuando una manovra per parcheggiare in una strada del centro storico hanno effettuato un controllo. L'uomo, un pregiudicato del 74, non ha dichiarato di essere positivo, ma grazie ad un controllo effettuato sulle banche dati, le forze dell'ordine hanno verificato che l'uomo era stato inserito nell'elenco dei positivi già dal 19 dicembre. Il 47enne a quel punto ha dichiarato che era uscito di casa per prendere una boccata d'aria nonostante fosse risultato positivo ad un ulteriore tampone a cui si era sottoposto il 28 dicembre. Sono stati intensificati nell'ultimo fine settimana i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Catania volti a garantire il rispetto delle norme anti-covid. I militari hanno identificato 593 persone sanzionandone 24 per il mancato uso dei dispositivi di sicurezza o per essere state trovate fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Dopo le 22 durante le attività sono stati controllati 195 esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei dettami ministeriali. Durante uno dei controlli in provincia all'interno del negozio sono stati trovati oltre al titolare quattro avventori tutti sprovvisti di mascherina. Due persone invece sono state denunciate per guida senza patente e una per evasione dai domiciliari. Cambiamo argomento, non riceve il bonus spesa per un disguido burocratico. È accaduto, a Vittoria si è rivolta a noi una signora che chiede spiegazioni, ci hanno detto, ha dichiarato che dovremmo aspettare l'attivazione di un'altra misura. Buoni spesa richiesti entro i termini previsti ma non ricevuti per un disguido burocratico. La mancanza di una firma e documenti compilati dopo l'apertura delle domande ma inviati via email indomani prima della scadenza dei termini previsti il 20 dicembre. È successa ad una famiglia di Vittoria che si è rivolta alla nostra redazione e chiede spiegazioni su quanto accaduto. Secondo quanto ha dichiarato la signora che ci ha scritto e alla quale abbiamo camuffato il viso e la voce per questione di privacy come da lei richiesto, bisognerà attendere la presentazione di un'altra domanda per usufruire dei buoni spesa. Nella vecchia domanda che è stata fatta nel mese di maggio chiedevano semplicemente dei documenti e di inviare una domanda. Questa volta invece no, chiedevano sia i documenti che le firme. Però che non era un problema perché dovevi stampare, firmare, ricaricare e mandare. Comunque io ho inviato questa domanda e mi è stata rifiutata perché accorgendomi dopo del foglio l'ho inviato il giorno seguente. Poi ho visto che sono arrivati buoni spese a tutti, mi sono informata e mi hanno detto che purtroppo la mia domanda è nulla perché la firme è arrivata il giorno dopo. Quindi dovrò aspettare se ci sarà una seconda domanda e quindi niente buoni spese. Certo, vedendo in base alla situazione in cui stiamo vivendo, credo che queste siano delle risposte un pochettino senza senso. Immediata la replica dei servizi sociali del Comune. La domanda non era stata presentata in maniera completa e dunque l'integrazione, così come è accaduto per tante altre persone, non era più valida. E' attivo, fanno sapere dai servizi sociali, lo sportello per il cittadino che offre un servizio di aiuto per coloro che pongono dubbi o interrogativi nella compilazione della domanda. Inoltre la Commissione straordinaria del Comune di Vittoria, per non lasciare indietro nessuno, ha dichiarato di aver dato mandato ai servizi sociali di riaprire i termini per la presentazione della domanda relativa ai buoni spesa. Parliamo adesso di infrastrutture. Entro il 28 febbraio il tratto Rosolini-Ispica dell'autostrada Siracusa-Gela potrebbe essere collaudato. È l'impegno che chiede l'assessore Falcone dopo un sopralluogo presso il cantiere. L'opera è quasi completa, mancano gli ultimi lavori e il 28 febbraio ci dovrebbe essere il collaudo. È una sfida che lancia l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone a proposito del tratto Rosolini-Ispica dell'autostrada Siracusa-Gela. Il tratto appunto è quasi completo ma ciò che manca è una data certa per il collaudo ed è per questo che l'assessore Falcone avanza la data del 28 febbraio perché, dice Falcone, troppe opere vengono completate ma poi ci sono tempi lunghi per il collaudo. Non possiamo permetterci, ha detto l'esponente del governo Musumeci, che opere finite non vengono poi utilizzate dai cittadini ed è per questo che stamattina l'assessore Falcone ha effettuato un non sopralluogo proprio sulla Rosolini-Ispica che nelle prossime ore incontrerà anche i vertici del CAS proprio per stabilire un cronoprogramma dei collaudi. Sono i primi 10 chilometri da Rosolini sino a Ispica che consegneremo alla fine di febbraio alla fruizione pubblica. Per quanto riguarda proprio la Rosolini-Ispica, la sfida del governo regionale è quella di anticipare il collaudo in modo tale da renderla fruibile il prima possibile? È una sfida sicuramente ardita perché rischiamo di completare l'opera e di non avere la documentazione in regola, nel senso che abbiamo un braccio di ferro con la Commissione di Collaudo Nazionale la quale deve realizzare, deve darci collaudi per circa 50 opere d'arti. E ancora, come dire, si stenda malgrado tutta la documentazione dal Consorzio Autostrade Siciliane sia stata trasmessa a Roma, come dire, si va a passo molto lento. Non vorremmo trovarci il 28 febbraio con l'autostrada pronta, con l'autostrada completamente asfaltata, con le barriere realizzate, con l'illuminazione completata, con tutte le misure di sicurezza e gli standard autostradali necessari creati e poi non avere la documentazione. Questi 10 chilometri si ultimeranno a breve, qual è il prossimo step? Il prossimo step sarà il settembre 2022. Arriveremo fino a Modica e completeremo. Considerate che la regione siciliana è una delle poche regioni in cui si costruiscono autostrade. Nel resto d'Italia sono pochissime le regioni, forse due sole, che oltre alla Sicilia stanno costruendo nuove autostrade. Noi lo stiamo facendo. Ci aspettiamo dal recovery fund un ulteriore finanziamento di circa 800 milioni di euro per arrivare sino a Ragusa. Questa è la nostra prospettiva. Questa è la richiesta che il governo Musumeci ha avanzato a Roma in maniera molto responsabile. Ci aspettiamo, poiché abbiamo anche i progetti definitivi dei tre lotti, il lotto 9, 10 e 11 per portare, per arrivare sino a Ragusa passando da Scicli, ci aspettiamo che il governo nazionale ci dia questo finanziamento ma non lo dia al governo Musumeci, lo dia alla regione siciliana. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di trasporti. Musumeci rispetta l'impegno assunto con il settore turistico a comunicarlo all'Associazione 2020. Erogato il fondo perduto regionale alle aziende bus turistici e noleggio con conducente auto anche per chi non era in regola con il DURC, il governo Musumeci ha dunque rispettato l'impegno preso il 2 di dicembre a Palermo durante l'incontro con gli esponenti di ABT 2020 Sicilia. In quella occasione fu il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miciche a fare da garante tra i rappresentanti della categoria e l'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone. Una trattativa non facile con diversi imprenditori che manifestavano davanti Palazzo d'Orlea, ha spiegato il presidente di ABT 2020 Maurizio Reginella. Nei giorni a seguire inoltre un noleggiatore del messinese aveva anche indetto lo sciopero della fame a Piazza Indipendenza. Attendiamo adesso che tutti gli impegni presi in quella occasione vengano rispettati, ha poi sottolineato Reginella. In particolare entro il 20 gennaio dovrebbe essere ufficializzata la cancellazione per il 2021 della tassa di rinnovo delle licenze e l'obbligatorietà dell'ISO 9001. Entro marzo 2021 ci sarà poi l'erogazione di un secondo fondo perduto. Nessuna novità invece sull'affiancamento al TPL. Restiamo una regione dove non esiste un piano concreto ed efficiente di affiancamento al trasporto pubblico con gravi ripercussioni sull'apertura delle scuole dal 7 di gennaio. conclude la nota a firma di ABT 2020. E adesso vediamo il video dell'associazione Rigsingsan che augura un buon anno. Ciao a tutti, io sono Anghi e io sono Smiley e vi volevamo augurare un nome dei carini rossi dell'associazione Rigsingsan che costa un nuovo anno ricco, ricco, ricco. ricco, ricco di tante cose, di momenti magici. Ciao a tutti. Ricco di momenti felici e di belle emozioni. Auguri! fieno di artubaleni e di tanti sorrisi. Ricco di esperienze solari e sorridenti. Ricco di amici e feste. Ricco di colori, di sireni e soli fragorosi. Ricco di amici e feste. 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 E parliamo adesso di sport, basket, settima vittoria di fila per la passalacqua Ragusa che inizia il nuovo anno come aveva concluso il 2020, batte a domicilio Empoli per 57-69 nella gara valida come prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato nazionale di basket femminile. Gara dura in equilibrio per lunghi tratti così come spese sono quelle del rientro della sosta natalizia che però la formazione ragusana ha saputo mettere definitivamente dalla propria parte nei momenti che contavano di più. Adesso si torna a casa, si attende un'altra settimana di lavoro, di chiarare cupido e ci prepariamo ad affrontare Bologna che a questo punto diventa importante e molto motivante dal momento che ha fatto delle buone cose. Palla 2 domenica prossima al Palla Minardi alle ore 16, partita che sarà trasmessa in diretta su Video Mediterraneo. Andiamo adesso ad un'altra notizia, Don Salvatore Cannate, il nuovo vicario foranio del vicariato che comprende territori di Vittoria, Acate e Scoglitti. Succede a Don Mario Cascone che lo scorso 11 dicembre aveva rinunciato all'ufficio. La nomina porta la data dello scorso 14 dicembre e la firma di Monsignor Carmelo Cuttitta. La sua nomina scadrà il 23 dicembre 2021, data che coincide con il completamento dell'attuale quinquennio. Con questa notizia è tutto, grazie per la vostra attenzione, l'informazione ritorna alle 16.30. Buon pomeriggio.